Ciao Ed le più. Ciao Dioza, grazie. Ciao. Bene tu? D'abri? Diciamo bene. E come sei da noi prontata? Che cosa è successo? Niccato. E perchè sei stato in chiuso? E' una vera. Giuseppe Raffaele hai dovuto poter s'alto? Non c'è solo Raffaella. Come pensi che Raffaella? Non c'è solo Raffaella. Non c'è solo Raffaella. Sergio! Ovo è Raffaella? Sì, Sergio. Sì, Sergio. Cosa è qui? Chi è che hai detto? Non so. Non so. Non so. Chi è che hai detto? Aspetta un secondo. Cosa è che ci succede? Mi racconto? Mi racconto? Non so. Non so. Non so. Non so. Mi racconto. 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 Mi racconto con gentilezza. E lui... Non so. Mi racconto con gentilezza. Come non sai che dirmi? No. E lui... Mi racconto. Non so. Mi racconto. Mi racconto. Sì! Sì! Non ti devo dire, non ti ha fatto una cosa! Nienti lei parlo, non ti parlo. Parlo tu! Non ti spiace! 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 Sì! Mi sono spiace! Dov'è una chiamata! stop bravi 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 Grazie.